Che freddo! Già, fa molto freddo, ma come abbiamo fatto a finire qui? È tutto ghiacciato! Uh, si scivola anche! Già, guardate, non si sta fermi! Ragazzi, cosa succede? Cos'è questa cosa che si muove? Masha, penso siamo finiti in una challenge! No, una challenge ghiacciata! Oh, qui si rischia, si rischia grosso! Oh, Peppa, qualcuno aiuti, Peppa, poveretta! Peppa, tirati su! Beh, Masha, qui abbiamo i bicchierini e lì ci sono delle carte! E allora direi di risolvere anche questo caso di challenge e di iniziare a giocare! Prima finiremo la challenge e prima ci ritroveremo al calduccio delle nostre case! Ben detto, Masha! Già, ma avete visto questi? Sono dei barattoli di slime ghiacciato! Eh? Anche lo slime si è ghiacciato? Ma com'è possibile? Questo non lo so, ma immagino lo scopriremo una volta terminata la challenge! Ehi, ehi, ghiaccio in arrivo! Si sono posati all'interno di quei bicchierini! Ah, io ho già capito tutto! Vi consegno le carte! Quattro a testa! Come fai ad aver capito, Masha? Allora, quattro carte ciascuno! Quattro carte per Geko! Uno, due, tre, quattro! Che cosa mi è capitato? Ma sono divise in due! Che strane! Che cosa stanno facendo? Stanno rompendo un cubetto di ghiaccio? E quelli danno addirittura fuoco! Uh, ma allora, è un po' pericoloso! Queste carte sono divise in due! Questo riquadro indica un attacco! Un attacco che si effettua ad un avversario! Cioè Splash, Peppa e Masha! Potrò attaccarli con queste figure! Mentre i numeri che ci sono qui sotto indicano di avanzare o di retrocedere nel tabellone! Le terrò a mente! Ora, tocca a Splash! Uno, due, tre, quattro! Vediamo un po' cosa mi è capitato! Oh! Oh, oh! Certo che questi attacchi fanno un po' paura! Anch'io conserverò queste carte! Le carte di Peppa! Uno, due, tre, quattro! Oh, ho tanti bei attacchi da fare! E per finire le mie! Uno, due, tre, quattro! Vediamo un po'! Ahah! Certamente userò questi attacchi! Quindi dobbiamo partire dall'inizio? Questa è la fine! Già, ma attenzione a non far sciogliere il cubetto di ghiaccio! Ho come l'impressione che se si sciogliesse accadrebbe qualcosa di catastrofico! E allora ragazzi direi di iniziare! Io ovviamente scioglio il verde! Ok! Questa è la partenza! Queste le mie carte! Allora, io voglio avanzare! Quindi sceglierò questo! Mi farà avanzare di quattro! Questa carta viene eliminata perché l'ho utilizzata! Ciao ciao carta! Quindi? Uno, due, tre, quattro cubetto di ghiaccio! Sì, è una fortuna perché su quella casella io non posso venire attaccato da nessuno di loro! Ahahahah! Sì, ma guarda, ti sta arrivando un'altra carta! Immagino che le carte in mano devono essere sempre quattro! Oh, eccola, è vero! Tocca a me! Io scelgo la pedina gialla! Queste sono le mie carte! Anch'io voglio avanzare, voglio avvicinarmi al traguardo! Quindi uso questa carta! E quindi? Ciao ciao carta! Uno, due, tre! Più due! Quindi? Uno, due! Mi hai superato! Tocca a me! Io voglio il rosa! E vorrei avanzare anch'io, insomma! Avanzo di quattro, certamente! Ciao ciao carta! Uno, due, tre, quattro! Occupato! Occupato! Si ferma qui! Ma c'è un più uno! Quindi? Uno! Oh oh! La lava! Eh? La lava? Immagino non sia una bella cosa per un cubetto di ghiaccio! Oh oh! Peppa sta arrivando il mazzo di carte! Eeeh? Oh oh! Peppa! Sei attaccata dal mazzo di carte! Guarda qui c'è del sale! Eh? Cosa accade con il sale? Oh oh! Peppa! Sul tuo cubetto di ghiaccio stanno versando il sale! Eh? No! Il sale farà sciogliere più in fretta il ghiaccio! Oh oh! Mi spiace Peppa! Tocca a me! Ovviamente voglio avanzare! Non voglio mica rimanere l'ultima! Più quattro! Ciao ciao carta! 1, 2, 3, occupati e 4! E una casella più uno! Quindi? Ecco qui! Ma ci hai superato tutti! Tocca a me! Oh no! Queste mi fanno retrocedere! Non le voglio usare! Userò questa! Più uno! Ciao ciao carta! Eeeh? Uno! In una casella più uno! Ma? Finisci sulla lava! No! Questo significa che subirò un attacco da parte del mazzo di carte! Mmm! Eeeh? Attacco! Doccia calda! Oh oh! Sei nei guai! La doccia calda scioglierà il cubetto! No! Si sta sciogliendo! Forza forza! Continuiamo! Vediamo un po'! Ovviamente vorrei avanzare! Più due! Uso questa carta! Ciao ciao carta! Uno! Eeeh? Due! Sei protetto dal ghiaccio! Che fortuna! Nessuno ti può attaccare! Tocca a me! Beh ovviamente voglio procedere! Quindi più tre! Sì! Ciao ciao carta! Uno! Due! Tre! Occupato! Qui! Casella più due! Uno! Due! Tocca a me! Ovviamente voglio avanzare! Uso questa! Più tre! Uno! Due! Tre! Più due! Uno! Due occupato! Qui! Allora vediamo un po'! Ok! Più uno! Sì! Qui! Casella più due! Uno! Occupati! E due! Lava! Non ci posso credere ancora la lava! Oh oh! Attacco dal mazzo! Eeeh? Il cubetto di ghiaccio verrà versato in una ciotola d'acqua e tu Giacco dovrai recuperarlo! Oh oh! Oh no! Recuperiamolo! Allora vieni qui cubetto! Sì! Ma questo gioco è molto strano! Allora ovviamente voglio avanzare quindi uso questa! Più tre! Uno! Due! Occupate! Tre! Che fortuna almeno non accade nulla! Uso questa! Più due! Uno! Occupati! E due! È una casella più due! Uno! Due! Io uso questa! Più tre! Uno! Due! Tre! Casella più due! Uno! Occupato! Due! Meno uno! Occupato! torni indietro! Lava! No! Attacco dal mazzo! Cadi in acqua! Eh? Recupero il ghiaccio! Oh no! Oh no! Forza! Vieni qui! Vieni qui! Sì! Eh! Bravissima Masha! Uso questa! Più due! Uno! Due! Casella più due! Uno! Due! Occupato! Meno uno! Torni indietro! Alla casella più due! Quindi rimani fermo! Oh beh! Almeno non mi accade nulla di male! Uso questa! Più tre! Vi ricordo che le carte in mano devono essere sempre quattro! Quindi ogni volta che ne usiamo una, ci viene riempito il mazzo! Uno! Due! Tre! Occupato! Meno uno! Torni indietro! Ah! Uso questa! Più due! Uno! Due! Lava! Attacco dal mazzo! Eeeh! Ecco qui! Cadina qua! Ecco! Oh! Oh no! Devo recuperarlo! Fatto! Ma si è quasi tutto sciolto! Oh! Via! Vediamo! Uso questa! Più tre! Uno! Due! Occupato! Tre! Uso questa! Più due! Uno! Due! Più uno! Uno! Più due! Uno! Due! Occupato! Più uno! Ma è meno uno! Torni indietro la lava! Non ci posso credere! Attacco dal mazzo! Acqua calda! Ecco qui! Uso questa! Uno! Due! E meno uno! Ma è occupato! Ritorni alla lava! No! Eeeh! Attacco! Il cubetto di ghiaccio verrà stretto per dieci secondi nella mano! Ormai è piccolo! Uno! Due! Tre! Quattro! Cinque! Sei! Sette! Otto! Nove! Dieci! È ghiacciato! Ma meno male non si è sciolto! Uso questa! Più quattro! Sì! Uno! Due! Tre! Quattro! Più due! Uno! Due! Sei protetta dal ghiaccio! Evviva! Uso questa! Più tre! Uno! Due! E tre! Uso questa! Più uno! Uno! Uso questa! Più due! Uno! Due! Meno uno! È occupato! Torna indietro alla lava! No! Non ci posso credere! Ancora! Attacco dal mazzo! Devi recuperare il cubetto nell'acqua! Via! Oh! Oh scusami! Ti ho rovesciato il tuo! Oh no! Ha perso troppo tempo! Oh! Ormai è piccolissimo! Si sta sciogliendo! Uso questa! Più quattro! Uno! Due! Tre! Quattro! Più uno! Vai sulla lava! No! Attacco dal mazzo! Acqua calda! Oh oh! Ma! Uso questa! Più uno! Uno! Meno uno! Torna indietro! Uso questa! Più due! Uno! Due occupato! Occupato! E qui! Ma è meno uno! Torna indietro! Qui è meno uno! Torna indietro! Oh no! Uso questa! Più uno! Non ne ho altre! Che mi fanno avanzare! Peppa! Mi spiace! Ma uno occupato! Meno uno! Torna indietro! Vai alla lava! Non ci posso credere! Non esco più da quella casella! Attacco dal mazzo! Sale! E? Ecco qui un po' di sale! No no! Io uso questa! Più tre! Ho vinto! Uno! Due! Tre! Sì! Hai vinto! Brava Masha! Bravissima! Brava! Ma allora! Quel premio è mio! Già! Ma solo uno! Scegli un colore! Cosa? Devo scegliere un colore! Ah! Sono tutti belli! Ma mi incuriosisce questo azzurro! Sembra di più ghiaccio! Ma è vero Masha concorso! Si tratta del twisty frozen! Il bianco ghiacciale! Che colore ha lo slime! Oh! Apriamolo! Forza! Forza! Scartiamo! Vediamo! Sono curiosissima! Cosa c'è qui dentro? Ah! Carta! Si deve essere spostato! Ecco perché quelli erano più bianchi! Perché qui si è spostata la carta! Ed è entrato dentro! Wow! Guardate! Guardate la striscia di glitter! È morbidissimo! Ma sapete? Voglio provarne uno dove non si è spostato il cosetto di plastica! Proviamo ad esempio quello dorato! Oh! Che rumori! Ok! Proviamo questo! Insomma lì purtroppo si era già mischiato! Apriamo! Ah! Infatti! Guardate! Questo è tutto bianco! Togliamo qui la plastica! Pronti ad immergerlo? No! Guardate! È bellissimo! Wow! Tra l'altro anche il colore è molto bello! Wow! Rimettiamolo nel vasetto! Certo fa dei rumori imbarazzanti! Comunque è stato un gioco molto divertente! Già è vero! E allora grazie per aver giocato con noi! Lasciate un pollice in su! Iscrivetevi al canale! E cliccate qui per vedere tanti altri giochi con tutti i personaggi dei vostri cartoni preferiti! Noi ci vediamo al prossimo video! Ciao! Ciao!